Buonasera, ben trovati a questa nuova edizione del TG Noi Versilia. In apertura parliamo di gestione del servizio pubblico dell'acqua. Oggi i comitati si sono riuniti a Pietrasanta con molti esperti internazionali del settore per chiedere un cambio di passo nel servizio idrico integrato sul nostro territorio, lamentando le situazioni del taglio a Val di Castello, acqua torbida dai Rubinetti a Massarosa e per questo si chiede un cambiamento nella gestione di Gaia S.P.A. Sentiamo che cosa è emerso da questo primo servizio. Superare il modello Gaia, passando da una società per azioni ad un'azienda speciale per avere una gestione davvero pubblica dell'acqua e risolvere le criticità attuali del servizio idrico integrato. Questa è la posizione dei comitati ambientalisti dell'area Apo Versiliese, che oggi in Sant'Agostino e Pietrasanta hanno organizzato un forum dal titolo L'acqua non si vende, alla presenza di esperti del panorama italiano ed europeo sui diritti dell'acqua. Fenomeni come il taglio a Val di Castello, l'acqua torbida a Massarosa, strettamente osservati dagli enti competenti, insieme alle tariffe in bolletta giuricate eccessive, hanno spinto i movimenti dei cittadini a chiedere un ripensamento nel sistema che vige nei 48 comuni gestiti da Gaia S.P.A. La differenza tra una società per azioni a capitale pubblico, cioè di proprietà dei comuni, e un'azienda speciale, quindi un ente pubblico, è che la società per azioni persegue sempre il profitto in quanto S.P.A. Bisogna renderla azienda speciale affinché non persegua più il profitto e quindi consideri l'acqua, non una merce ma un diritto. È sufficiente la volontà dei consigli comunali che aggregati possono decidere di trasformare Gaia in un'azienda speciale consortile. Qui diventa un ente pubblico e cambia tutto, ma poi bisognerà intervenire sul cuore dell'azienda, sulle intenzioni dei gestori. Tra i progetti più contestati, quello della cosiddetta autostrada dell'acqua, approvato dall'autorità di Bacino per portare l'acqua delle Apuane dalla Versilia a Livorno. È un progetto che non è stato discusso con la gente. Non si riesce a capire per quale ragione, se è una cosa così importante, così utile, e così non si è propagandata prima di poterla lanciare con la popolazione. Se avessero spiegato i motivi reali probabilmente questa cosa non sarebbe mai passata. I cambiamenti, sia in negativo che in positivo, non fanno partecipare la gente. E oggi il cambio verso una gestione pubblica significa che i cittadini devono essere responsabili delle decisioni e questa partecipazione dei cittadini oggi è debolissima. Voltiamo pagina. Rifiuti abbandonati, carrelli della spesa rovesciati, strutture fatiscenti. Benvenuti sul viale di Tilia a Viereggio, nell'area verde ai margini della Darsena, dove solgono i chioschi e i punti di ristoro della pianeta di Levante. A denunciare lo stato di incuria dell'area, molto frequentata da famiglie, è un cittadino della zona che ha inviato queste foto alla nostra redazione. Ai piedi delle panchine ci sono cartoni, vedete materassi, sacchetti di sporcizia, sedie e altri oggetti abbandonati. Ma non soltanto, la fontanella pubblica dell'acqua è stata travolta e versa a terra. Le staccionate e i ponticelli in legno sono danneggiati dall'usura. La situazione, così denunciano i residenti, va avanti. Da molto tempo si parla di lunghi mesi trascorsi senza interventi, se non occasionali. A lamentarsi però sono anche i gestori delle attività, dei chioschi, che chiedono maggiore attenzione al decoro in una zona per tradizione molto accogliente per vieregini e turisti, specialmente in estate, molto frequentate. Questa è la situazione. Adesso invece parliamo dell'accordo con la Banca del Monte che andrà un maggiore e più facile accesso al credito per le strutture alberghiere del nostro territorio. Sentiamo quali vantaggi. Firmato un accordo tra la Banca del Monte, Federalberghi, Confcommercio Lucca per favorire l'accesso al credito e ai servizi bancari per il settore alberghiero. Alla firma erano presenti il direttore di Confcommercio Lucca Rodolfo Pasquini e il direttore generale di Banca del Monte Federico Pietrini oltre al presidente della Banca Carlo Lazzarini e al presidente di Federalberghi Lucca Pietro Bonino. Il protocollo prevede per gli affiliati a Federalberghi la possibilità di accedere ai finanziamenti di Banca del Monte sia a medio-lungo che a breve termine usufruendo di tassi particolarmente favorevoli e competitivi. Anche sul fronte dei servizi bancari quali il conto corrente o il POS sono previste agevolazioni per quanto riguarda i canoni e le commissioni. Un altro aspetto consiste nel servizio di consulenza finanziaria a 360 gradi che la Banca offrirà alle imprese alberghiere. L'importanza, secondo me, dell'accordo è quello comunque di mettere a disposizione della struttura della Federalberghi anche una rete di consulenti dedicati e quindi anche con competenze specialistiche nel prodotto in grado comunque di assicurare delle risposte eccelleri. Ma quali saranno i vantaggi per gli imprenditori alberghieri? Intanto riprendere un rapporto fra istituto bancario che negli anni sarà un pochino perso perché con l'evoluzione del sistema bancario anche questa aveva sofferto questa e sostanzialmente a dare alla categoria degli albergatori un settore in forte sviluppo nel tessuto nostro, di Lucca ma anche dell'intera provincia di una collaborazione con un istituto bancario che è comunque radicato sul nostro territorio. Una donazione da ben 500 euro per l'AIP di Versili Associazione Italiana Persone Down arrivata dalla famiglia di Aurora Francesconi la quindicenne via Regina, ricorderete la triste vicenda fu vittima della strada in un tragico incidente a Torre del Lago nell'estate del 2014 soldi che sono stati raccolti raccolti attraverso una cena di solidarietà negli anni scorsi, spiegano i familiari Marco e Fiorella abbiamo aiutato i poveri vecchi e la biblioteca comunale quest'anno l'aiuto va all'IPD per il progetto di costruzione di una casa famiglia per il dopo di noi dedicata alle persone con sindrome di Down un progetto su Lido di Camaiore Andiamo a Viereggio adesso stamani premiati i vincitori della Borsa di Studio intitolata al professore e ricercatore Giuliano Lucarelli Vediamo Assegnati stamani i premi del 27esimo concorso letterario Borsa di Studio professor Giuliano Lucarelli ricercatore, amante delle arti figurative per una vita accanto agli ammalati e premio di poesia Annabelli L'iniziativa è organizzata dal comune di Viereggio rivolta ai ragazzi delle secondarie di secondo grado dei sette comuni della Versilia tema del concorso era l'approfondimento dell'opera letteraria di Lorenzo Viani in occasione dell'ottantesimo anniversario della scomparsa 3 i premi in denaro assegnati ai giovani studenti 780 euro al primo classificato 520 al secondo 260 al terzo Più che concentrarsi sull'aspetto pittorico di questo personaggio ci siamo concentrati sulla letteratura che magari è anche meno conosciuta e si sono scoperti degli aspetti molto interessanti ad esempio la visione aspra e cupa della vita che aveva Viani che rappresenta un po' anche la visione della vita ai nostri giorni ci sono molti temi legati alle vicende della sua vita che saranno importanti per i diversi temi che lui tratterà nelle sue opere è stato un lavoro di gruppo il vostro? sì, io e Paulinelli Irene abbiamo lavorato insieme e poi anche Altemura e Manfredi e Decese è venuta fuori una bella cosa lui è un uomo del nostro tempo come la poesia del inizio vale a dire l'attenzione degli emarginati è una cosa molto attuale per questo motivo l'ho ritrovata in quasi tutte le sue opere anzi direi proprio tutte la borsa di studio intitolata al professor Lucarelli venne istituita da Anna Belli, indimenticabile presidente e la giuria del concorso ha deciso quest'anno di premiare con una medaglia d'oro personalizzata per la sezione poesia Elisa Tofanelli un premio speciale in libri a Giulia Pardini e a Luca Bertuccelli è lutto a Lido di Camaiore Velio Cerris comparso oggi all'età di 91 anni nella sua abitazione di via Dombinzoni a Lido sempre stato il presidente della Croce Verde Lideso e lo fu della pallavolo Lido innanzitutto dei balneari lidesi della locale squadra di calcio consigliere comunale a Camaiore prima del PSU, poi del PSI e infine appunto presidente della Croce Verde del Lido amichevole e sorridente con tutti pilastro e memoria storica cittadina era stato nominato presidente onorario della Croce Verde per i suoi trascorsi nella pubblica assistenza sotto la sua guida la Croce Verde è diventata punto di riferimento per la capacità del soccorso e per la modernizzazione dei mezzi 11 anni fa l'assemblea dei soci lo ha investito proprio della presidenza onoraria che è la massima onoreficenza attribuibile e che negli anni è stata data solo a Velio Cerri i funerali si terranno venerdì alle 15 nella chiesa del Sacro Cuore di Lido lascia la moglie egiziana i fini Mario e Patrizia Cambiamo decisamente argomento non è ancora finito il carnevale in Versilia terminato quello di Viareggio come ben sapete resta ancora un corso invece per il carnevale Pietrasantino ma c'è ancora una volta l'incubo maltempo e stavolta si parla di gelo e forse addirittura neve sentite dopo il bagno di folla del primo corso sul carnevale Pietrasantino edizione 2018 è scesa l'incognita maltempo la pioggia ha dato tregua al secondo corso ma i guai del meteo non sembrano finire domenica 25 è infatti previsto l'arrivo di un'ondata di gelo siberiano che investirà tutto il paese resta da capire quali saranno le conseguenze per il territorio della Versilia nel caso in cui sia prevista pioggia o neve sabato mattina gli uffici comunali e i presidenti di contrada torneranno a riunirsi per decidere nella peggiore delle ipotesi l'avventura carnevalesca potrebbe chiudersi domenica mattina con la lettura dei verdetti in municipio ma la speranza di una nuova e possibile giornata di carnevale da regalare agli spettatori è ancora tanta a sfilare saranno 12 carri e 12 mascherate per circa 800 figuranti alle 15 Giove Pluvio permettendo sul classico percorso nel cuore cittadino di Pietrasanta sfileranno le contrade in testa al corteo Miss Carnevale e non la Bresciani accompagnata dalle tipiche maschere di sprocco e scalpellina i biglietti saranno acquistabili alle biglietterie predisposte sul circuito costo del biglietto intero 6,50 euro ingresso gratuito per i bambini con età inferiore ai 10 anni e adulti sopra i 70 anni di età intanto la nostra emittente Noi TV Versilia Canale 10 del Digitale Terrestre trasmetterà fino a domenica 25 i video di tutte le mascherate in concorso a Pietrasanta grazie alla collaborazione con il sito sprocco.it Adesso invece vi parliamo di un piccolo primato per lo sport versiliese il VAR il sistema elettronico digitale di controllo sui campi da calcio debutta infatti anche per il calcetto a 5 e lo fa proprio su uno degli impianti sportivi più noti in Versilia andiamo a vedere Il VAR l'assistente video per gli arbitri debutta nel calcetto a 5 una novità assoluta in Italia introdotta da poche settimane sui campi del Perdini Sporting Center di Lido di Camaiore quattro videocamere collegate con un software e un monitor che consentono di verificare reti, falli e azioni in area di rigore attraverso fermo immagine e replay una rivoluzione del tutto simile a quella del calcio professionistico a 11 che per la prima volta viene impiegata nel calcetto e che a breve ci spiegano gli ideatori sarà brevettata con il marchio Frame Ho preso l'idea di Techmania di quattro telecamere l'ho portata qua sono più di 60 metri di cavi e sta avendo un successo clamoroso che non mi aspettavo neanche io sinceramente Cercheremo di tutelarci nel modo migliore possibile depositando il marchio Frame che significa fotogram referee assistant moviola entertainment Sono molto contento e di questa cosa ancora di più perché vedo che la gente comunque è curiosa piace è una cosa che si usa anche nel tennis nel senso che si chiama il falco direi che è una cosa positiva Qualcosa di innovativo che a dire la verità è una rarità nei centri sportivi italiani Bravo per quanto riguarda il calcetto sicuramente sì siamo i primi È stata un'innovazione che non ha uguali in tutta Italia quindi il calcio in generale ma tutti gli sport si adeguano con i tempi e quindi si passa la modernità con strumenti di tecnologia che possono davvero darci una mano proprio personalmente ho potuto utilizzare il VAR per un gol non gol che ad occhio nudo e a velocità normale di gioco non si vede Ci fermiamo con la crona che tra poco veniamo allo sport giocato a tra pochissimo Ben ritrovati siamo alla pagina sportiva del nostro telegiornale Ok su pista in primo piano le due versiliesi Cigi, Civi, Reggio e Forte dei Marmi si preparano alla Final 8 di Coppa Italia sentiamo il programma con Roy Lepore Da venerdì a domenica sulla pista del Capanino di Follonica si disputa la fase finale della Coppa Italia di hockey su pista che vedrà impegnate anche le nostre due formazioni versiliesi si tratta dell'edizione numero 49 della manifestazione venerdì alle 17 saranno di fronte l'Hockey Forte dei Marmi e il Trissino mentre alle 19 è la volta del Centro Giovani Calciatori che se la vedrà con il Breganze il programma prevede anche alle 15 il derby Veneto tra Baldagno e Bassano e alle 21 i padroni di casa del Follonica affronteranno i campioni d'Italia dell'Odi per quanto riguarda il Centro Giovani si presenta questo appuntamento dopo la sconfitta in Eurolega con il Reus 4 a 2 ma disputando una buona gara da verificare la condizione fisica di alcuni giocatori compreso Mugna reduce dall'influenza anche l'Hockey Forte cerca un riscatto in questa manifestazione dopo la sconfitta interna sempre in Eurolega con il Barcellona per 4 a 2 i rosso-blu sono alle prese con qualche giocatore acciaccato sabato sono in programma le semifinali alle 19 alle 21 e domenica la finale è fissata alle 19 con la presenza anche del ministro dello sport Luca Lotti prima della finale saranno consegnati premi speciali per la passata stagione Riccardo Gnata Hockey Forte dei Marmi come miglior portiere della Serie A1 e un premio anche all'Hockey Forte con il trofeo Boccalossa tutte le gare saranno trasmesse in diretta web streaming sul portale della Federazione Italiana Sport Rotellistici www.firsrtv.it Lasciamo l'Hockey adesso il Beach Soccer vestirà la maglia del Viareggio Carlo Capo giudicato il migliore giocatore dell'ultimo memory al Matteo Valenti è andato in scena la scorsa estate al Beach Stadium scusate lo annuncia proprio la società bianconera Carlo Capo cresciuto proprio grazie al Torneo Valenti arriva nel Viareggio dopo aver girato tra Cavaliari del Mare a Lazio e Pisa al momento gioca nel campionato di promozione nelle file del Pietrasanta benvenuto a casa così lo accolgono i bianconeri gli altri bianconeri quelli del calcio di serie D del Viareggio 2014 si preparano invece al derby versiliese domenica in casa contro il Real Forte Querceta per vendite aperte ricorda la società Zebrata non soltanto nel punto vendita ad Angio ma anche presso il Tiger Café a Lido di Camaiore e poco prima del match ci sarà un momento di presentazione sulla pista di atletica di nuove autovetture di uno dei main sponsor della società ancora per lo sport i motori adesso l'enduro che sbarca in Versilia domenica appuntamento per tutti gli appassionati in piazza 29 maggio a Camaiore sentiamo domenica 25 piazza 29 maggio a Camaiore si trasformerà in un vero e proprio villaggio sportivo per la partenza e l'arrivo della gara di MTB Enduro quinto round e VT ultima tappa del campionato toscano Ligure aperta a tutte le categorie saranno ammessi anche i giovani della categoria baby dagli 8 ai 12 anni esordienti allievi con una formula speciale dedicata è la prima volta che questa disciplina grazie alla passione e all'impegno dell'associazione Toscana Trucks arriva in provincia di Lucca si tratta di una sorta di rally a pedali con trasferimenti e gare a tempo prevalentemente in discesa e su sterrato fuori strada in tutti i casi si parte da piazza 29 maggio con i trasferimenti delle mountain bike e degli atleti per arrivare in collina tre i percorsi interamente segnalati e rimessi a lucido per l'occasione il primo Monte Fate il secondo è lo storico Monte Moneta e per concludere in bellezza il terzo Saratono importante è anche la ricaduta turistica della manifestazione per noi è la prima esperienza però abbiamo già riscontrato molte presenze perché è da un mese che le persone vengono a provare i nostri percorsi da quando abbiamo iniziato la pubblicità grande affluenza e da tutta Italia diciamo poi si spera anche dall'estero forse diciamo che una notizia un'anteprima la potrei già dare che sembra che arrivi anche un concorrente a livello mondiale diciamo così perciò questa grande promozione per il territorio e la cosa che fa più piacere è quando vengono rimangono stupiti dalle bellezze del nostro territorio e questo ci rende pieni di orgoglio è tutto anche per lo sport tra poco di nuovo insieme terza parte del telegiornale con gli eventuali aggiornamenti ben ritrovati terza parte del nostro telegiornale non abbiamo aggiornamenti di cronaca ma prima di salutarci la rubrica consueta degli aguri questa sera gli aguri di buon compleanno che vanno all'area Bonuccelli di Viareggio auguri dalla mamma Lia dal fratello Luca e da tutta la famiglia e poi ancora auguri a Sara Palazzolo di Viareggio compie oggi 11 anni auguri da parte di nonna Giuliana e zia Veronica e infine gli auguri vanno a Giovanni Cervelli Viareggino tenore appassionato di musica lirica ormai conosciutissimo in città per la sua partecipazione a Tusiche Vales su Canale 5 festeggia il suo compleanno gli auguri arrivano da parte dei parenti e degli amici più stretti e con gli auguri è davvero tutto vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti